Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza a quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la capitale del Drume, Kevia, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un articolo che sarà d'obbligo avere se sarete dei collezionisti del TCG di One Piece. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia One Piece Car Game Premium Collection 25esimo Anniversario. L'articolo si presenterà in un look total white, con il logo del GCC a dominare il centro del cartoncino, con subito in basso il secondo piano del mosaico che è stato formato dall'unione delle tre copertine del manga, rispettivamente 99, 100 e 101, sulla parte frontale, e la lista completa riportata tramite immagini delle carte che potrete trovare al suo interno, con tutte le informazioni legali del caso sulla parte dorsale. Una volta aperta la collezione, avrete sotto forma di carta i dieci membri che formeranno l'equipaggio di cappello di paglia, incollati su una mappa che riporterà il vasto mondo dove Luffy e la sua ciurma navigano in lungo e in largo. Per ogni carta inclusa nel set, sarà presente una foilatura similpunzonata con aspetto metallico che raffigurerà il personaggio, sempre estratto dal mosaico di copertine tratte dal manga in primo piano, con alle spalle una scena tratta dalle apparizioni più rappresentative ritratte nei volumi dell'opera del maestro Oda. Sarà da notare che ogni carta riprenderà gli effetti e le abilità di altri elementi già presenti in gioco, come lo Zoro Leader, Chopper Blocker e la Nico Robin a costo 3. In più volevo parlarvi del fatto che non riceverete questo prodotto nudo e crudo, ma completamente avvolto in una confezione di plastica, che conserverà lo stato di custodia di ogni singola carta al suo interno nel migliore dei modi. Come se servisse, visto che anche ogni personaggio avrà una sua bustina sigillata dedicata, garantendo quindi ad ogni pezzo di questa collezione di mantenere inalterato il suo valore intrinseco. Interessante anche il dualismo post e pre-timeskip riportato direttamente sulla carta, che andrà a mostrare, oltre all'evoluzione del personaggio, anche il miglioramento dello stile tecnico di disegno del maestro Oda attraverso gli anni. Prima di concludere volevo ringraziare Stefano Ciccio Paolucci e Loop Game per avermi dato la possibilità di parlare di questo articolo. In descrizione, come sempre, vi lascerò i link dove potrete acquistare la 25esima edizione, così da aggiungere un pezzo da collezione davvero straordinario alla vostra già ricca raccolta. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso Mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!